Buonasera a tutti, oggi in studio con me l'onorevole Piero Alongi, deputato regionale, nonché vicepresidente della Commissione Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Piero è un mio amico, ho il piacere di ospitarlo nelle mie trasmissioni e con lui parleremo di alcuni fatti politici che riguardano la Sicilia e i comuni del Palermitano. Soprattutto parleremo di Bagheria, che in questo periodo è all'attenzione della cronaca nazionale. Parleremo anche di Bagheria perché Piero Alongi, da quanto mi ha detto qualche giorno fa al telefono, ha delle notizie importanti sul sindaco di Bagheria, su questa vicenda di cui hanno parlato anche le Iene. Io devo dire che questa vicenda mi sono interessato pochissimo perché non vorrei unirmi al coro di coloro che vogliono attaccare lei in Movimento 5 Stelle e quindi sfruttare l'occasione. Diversa la posizione di Piero Alongi che svolge un ruolo politico e ha tutto il diritto di denunciare soprattutto se ci sono fatti, chiamiamoli non regolari, poi tu deciderai come definirli, che riguardano l'amministrazione comunale di Bagheria. Quindi a te il microfono. Grazie Filippo, buonasera agli ascoltatori. Voglio fare un piccolo passo indietro perché non vorrei sembrare un opportunista inopportunamente della politica avendo seguito il servizio delle Iene di domenica sera. Io devo dirti caro Filippo che ho iniziato a ragionare sui problemi di Bagheria già da tre mesi e voglio spiegare un po' ai cittadini perché credo che sia importante questo tema, però non voglio criminalizzare nessuno. Io ho chiesto la convocazione di Patrizio Cinque, del dottore Celico, l'ex responsabile del Coeres Bagheria, dei sui rifiuti, la ditta tecnica che si è giudicato all'appalto su Bagheria perché volevo vederci chiaro su quello che era. Ti fermo un secondo per pensare che tu fai anche parte della commissione parlamentare antimafia. Con la commissione parlamentare antimafia abbiamo chiesto, è chiaro che io potrò soltanto dire alcune sfumature, alcuni aspetti perché alcuni sono secretati perché chiaramente sono in corso delle indagini e quindi è corretto mantenere anche per un fatto di correttezza istituzionale riservatezza su questi temi così caldi e delicati. Dicevo ho chiesto l'audizione in commissione parlamentare antimafia perché la commissione non si occupa soltanto di infiltrazioni mafiosi, si occupa anche di una gestione leggera dove possono essere verificati alcuni casi di peculato o alcuni casi di concussione e quindi ho voluto sentire il sindaco, abbiamo ascoltato il dottore Celico, abbiamo ascoltato la dottoressa Picciurro, adesso ci arriveremo poi a margine, abbiamo ascoltato il responsabile della ditta Tec che si è giudicato questo servizio per il spazzamento e per i rifiuti di bagheria per 3 milioni e 600 mila Euro in sei mesi. Dico tutto questo perché noi riteniamo, allora io devo dirti con molta schiettezza Filippo, io sono onesto, oggi voglio essere molto chiaro con gli ascoltatori, vedete io credo moltissimo nel rispetto delle regole e nel rispetto della legalità e devo dirvi che dal mio punto di vista ritengo che a bagheria probabilmente si è un po' travalicati, abbiamo ascoltato il presidente della ditta Tec che ha gestito i lavori e puttacaso dopo la nostra convocazione in commissione antimafia del sindaco Patrizio Cinque ha deciso 48 ore dopo di revocare, di non prorogare più quel servizio, di farlo in ausso direttamente da lui gestito. Sono considerazioni che faccio e non voglio essere polemico con Cinquettelle perché sembrerebbe facile oggi fare polemica dopo quello che è successo con le Iener, io credo che invece bisogna ragionare un pochettino di politica e di regola del gioco, come ti ripeto subito dopo che noi abbiamo convocato Patrizio Cinque in commissione antimafia in una lunghissima lunghissima audizione, lui ha deciso l'indopodomani di comunicare l'arrevoca, di fermare questa parte. Tu l'hai sentito pure in commissione territorio e ambiente dove è accaduto uno scontro. Sì, questo dell'altro ieri dove chiaramente devo dire che è emerso un modo di vedere la politica che io definisco, adesso non voglio esagerare con questa frase che sto dicendo perché non voglio assolutamente trarmi nei nemicisti di nessuno, ma tipo setta nel senso buono della politica, attenzione non voglio parlare di sette, di altro tipo, un gruppo chiuso, facendo considerazioni, accusando i funzionari che erano presenti che c'era un accanimento contro il sindaco Cinque, invece il funzionario ha dimostrato con le carte, quindi con i riferimenti cartacei, firmati e protocollati, che i controlli che aveva fatto al comune di Bagheria li aveva fatti anche in tanti altri comuni, il comune di Palermo, il comune di Misilmeri, il comune di Pollina e così via. Perché dico questo? Perché i 5 Stelle o gli amici di 5 Stelle non possono pensare che il momento in cui loro governano una comunità e governano un comune possono governare in autonomia fuori da quelle che sono le regole del rispetto delle regole? Dobbiamo fare una precisazione, nel senso che noi abbiamo tentato di invitare il sindaco Cinque Mi avrebbe fatto piacere averlo trovato qui, anche per fargli un po' di domande. Impegni personali, indubbiamente, poi è il momento particolare, non gli ha consentito di essere presente. Noi siamo sempre disponibili ad ospitarlo per dargli la possibilità di replicare, oppure tu dichiari che sei disponibile a confrontarti con lui, quindi se lui è disponibile... Aggiungo a questo, da quelle audizioni devo dirti che sono emerse palesemente, tant'è che avendo ascoltato anche l'assessore Vania Contraffatto, su alcune vicende che sono accolte a Bagheria, si è riservata di rispondere a una risposta dicendo che c'era in corso una segnalazione all'autorità giudiziaria e quindi per il momento non ritenevo opportuno informarci di alcuni fatti riferiti alla vicenda del rifiuto e alla gestione dei rifiuti a Bagheria. A questo aggiungo, vedi Filippo, succede un fatto ancora più grave, lo voglio dire ai telespettatori che ci stanno ascoltando. Non dobbiamo dimenticare di parlare di risuzzo. No, ora ci arriviamo, vedi, ci arrivo adesso in maniera molto veloce, perché io non lo conosco neanche, non so chi sia, non ho mai avuto rapporti. Anche perché mi sono documentato attraverso la tua pagina Facebook. Mi conosci, sono abituato a dire quello che penso e a scrivere quello che penso e non mi sottraggo alle mie responsabilità politiche. Devo dire che è successo un fatto grave, quando la dottoressa Picciurro, che era una funzionaria, era, perché in questo momento è da dieci mesi, è sospesa dal servizio, ha segnalato al sindaco che era opportuno spostare questo funzionario in un ufficio un po' più marginale, perché era stato, era indagato per concussione e le spiego la motivazione di questa concussione che ne è uscito, ne è fatto la stampa in questi giorni, un imprenditore che si era giudicato un appalto a Bagheria, era stato da quella denuncia fatta da questo imprenditore, avvicinato da questo signor Lisuzzo, da questo ingegnere Lisuzzo, il quale gli avrebbe indicato una serie di aziende a cui rivolgersi per la giorni. Adesso è indagato, io mi auguro che possa dimostrare la sua innocenza, però tu mi insegni caro Filippo che, io l'ho fatto il sindaco e ti parlo con molta schiettezza, mantenere oggi un indagato per un reato così complesso e delicato, quello della concussione in un ufficio così delicato come quello dei lavori pubblici a Bagheria, devo dirti che ritengo che sia un'opportunità, è inopportuno, usiamo questo termine, io voglio dire se al posto del sindaco 5 avrei fatto una scelta diversa e putacaso quando la dottoressa Picciurro, sembra quasi una fiction che sto raccontando, decide nero su bianco con nota scritta, tra l'altro ce l'ha anche comunicato in Commissione Antimafia, decide con nota scritta di comunicare l'inopportunità di mantenere Lisuzzo, non in quello dell'ufficio ma spostarlo, putacaso si innesca una serie di meccanismi e la dottoressa Picciurro è stata sospesa per un provvedimento disciplinare per i primi sei mesi, dal dirigente ma anche da un comitato che chiaramente si è riunito dove ha valutato queste 8-9 contestazioni, dove putacaso in questo comitato, non vorrei sbagliarmi, se sto sbagliando chiedo scusa, ma mi pare di ricordare abbastanza bene che in questo comitato fa parte di questi tre componenti di disciplina, fa parte il padre di uno dei consiglieri comunali di 5 Stelle, adesso non vorrei ricordare male, ma lasciamo perdere questa cosa Filippo, devo dirti, la cosa che mi allarma e questa è una cosa che posso raccontare e ci sono i verbali che parlano chiaro, che quando il sindaco 5 è venuto in commissione nel mese di ottobre, in commissione antimafia, nel mese di ottobre nel suo escursus quando gli fece la domanda mi diceva che tanto la dottoressa Picciurro rientrerà i primi di novembre perché sono finuti i sei mesi, putacaso dopo che è venuto in commissione antimafia, ma sono attenzione, non sto facendo illazioni, sto fotografando quello che è successo, è chiaro che è una fotografia, poi chiaramente ognuno faccia le sue valutazioni, putacaso dopo che è venuta in commissione, ed è stato sentito in commissione antimafia, i primi di novembre è stata riprorogata la sospensione dall'ufficio per altri sei mesi, aveva comunicato in commissione che sarebbe rientrare, le motivazioni sempre stesse, tra l'altro con parere contrario del comitato di disciplina, non c'era l'unanimità del parere del comitato, perché sto raccontando queste cose. Il sindaco può sempre dire che lui non era a conoscenza, ne sono sicuro che non era a conoscenza, però sono successe troppe coincidenze che come diceva Giulio Andreotti a pensare male spesso si ci azzecca sempre, io non voglio dire che ci azzecco, ma poi saranno gli atti finali di questa inchiesta a pare chiarezza. Adesso io non vorrei sembrare... Prenda dell'abusivismo, queste altre... Ma guarda, prima dell'abusivismo ti posso fare un passo indietro al suo insediamento, la voglio raccontare questa cosa perché c'è questo non lo sanno. Il sindaco si insedia a Bageria e il vecchio sindaco aveva predisposto una gara indirizzata al Ministero dell'Interno, anzi un progetto per un finanziamento per 750 mila Euro, per realizzare in via sperimentale nella provincia di Palermo il più piccolo e importante centro di aggregazione per disabili gravi immigrati. Questo avrebbe permesso di far lavorare in quel territorio, in quel comune, per circa tre anni, un gruppo importante di psicologi, assistenza sociale e tutto il resto. Ebbene, il sindaco è venuto opportuno, appena insediato, soltanto perché era una richiesta probabilmente fatta dalla presente amministrazione, di chiedere al Ministero dell'Interno di revocare quell'appalto, di revocare quel finanziamento e che non era interessato. Cioè questo è il metodo, è il modo che io non condivido e che credo che non possa funzionare. Sono stato colui, l'ho anche chiamato, avendo avuto informazione anche dal sindaco, dall'ex sindaco Lomeo, e devo dirti che ho notato un uomo, un sindaco attento all'ascolto ma non disponibile alla risposta. Cioè ascolta ma non risponde, per carità, poi chiaramente ognuno ha i suoi modi di operare e di agire politicamente. Adesso possiamo continuare a dire, perché volevo legarmi a questa cosa se il sindaco direttamente o tramite altri suoi collaboratori ci vuole dare una risposta in merito a queste che tu hai detto. Le cose che sto raccontando sono carte scritte, ci mancherebbe altro. Ma non sono reati, attenzione, ma guarderei bene. Sono considerazioni che vorrei fare oggi pubblicamente. Ripeto, noi avevamo invitato il rappresentante del Movimento 5 Stelle ad essere presenti in trasmissione, però purtroppo impegni successivi precedenti hanno impedito loro di essere qui in studio. Ma noi siamo disponibili, non è la prima volta che li invitiamo, non è la prima volta che non vengono. Non so se ancora è la vecchia strategia, ma nel caso in cui questa loro strategia politica e di comunicazione si sia modificata, noi siamo disponibili ad ospitarle, non ci sono problemi. Per quanto riguarda questa vicenda dell'abusivismo che ha attirato l'attenzione anche delle Iene. Guarda, io ho fatto un comunicato stampa dove do solidarietà al sindaco. Mi spiego meglio, nel senso che non l'ho attaccato per l'abusivismo della casa del sindaco, nel senso che il papà aveva arreggiato questa casa. Io sono molto onesto, mio padre 25 anni fa, perché vedi la politica aveva il coraggio delle sue azioni, mio padre 25 anni fa ha realizzato, anzi 30 anni fa, ha realizzato una casa come tanti cittadini abusiva, poi usufrendo dalla sanatoria edilizia. Dico attenzione, quindi voglio dirti, chi non ha peccato scagli la prima pietra. E come vedi io lo dico qui pubblicamente e tranquillamente. Però attenzione, quando l'assessore all'urbanistica Tripoli ha realizzato, ha ampliato un immobile da 25 metri quadri, a 130-140 metri, realizzando questa villa di campagna, e ha presentato da assessore la richiesta di, non è una sanatore vera e propria, è esempio di un articolo, adesso mi sfugge di legge, diciamo dove dice che la conformità del passato era uguale a quella di adesso e quindi l'ampliamento che ha fatto era limitato, putacaso dopo che le Iene hanno fatto il servizio a Bagheria, l'ufficio tecnico del comune di Bagheria l'altro ieri gli ha diniegato, ha iniziato l'attività di diniego di quella richiesta di autorizzazione, motivandola per carenza di documenti. E allora mi pongo una domanda, ma non è che per caso l'assessore nella sua posizione da assessore all'urbanistica nel rapporto predominante nei confronti dell'ufficio aveva mantenuto le carte lì in attesa ai tempi migliori? Perché se è così, lo dico con molta schiettezza, anche quest'assessore farebbe bene in questo modo quantomeno a sospendersi dall'incarico di assessore all'urbanistica, quantomeno a questo perché c'è un conflitto chiaro di interessi, mi permetto di dire caro Filippo. La presenza nel Consiglio Comunale di Bagheria, ci sono esponenti del nuovo centrodestra? Sì, ci sono diverse, devo dire che c'è un movimento molto ampio, non soltanto del nuovo centrodestra, il nuovo centrodestra poi non sono dichiarati, ma diciamo di appartenenza all'area riconducibile al nuovo centrodestra, all'Udc, a realtà hanno costituito tra l'altro un movimento civico molto importante. Per capire se è la battaglia che tu fai fuori dall'aula del Consiglio Comunale. Devo dirti che tra l'altro ho ricevuto una nota l'altro ieri fatta dal Consigliere Rizzo, il quale chiede al Sindaco a seguito delle mie denunce fatte in quel comunicato stampa dell'altro ieri di andare in aula e a riferire in particolar modo sui temi che riguardano sia l'aspetto urbanistico sia l'aspetto dell'ingegnere Rizzo e a quanto pare ad oggi ancora non hanno ricevuto disponibilità al confronto, perché vedi caro Filippo la democrazia o lo è sempre o non può essere come l'Elasto che lo larghe stringi a convenienza, io credo che il confronto democratico, il confronto dell'aula, tra l'altro lì lo voglio dire, 5 stelle, io sono in una commissione dove c'è streaming perché è collegata in diretta e quindi quando noi facciamo le commissioni quello che discutiamo là dentro, qualunque battuta, qualunque messaggio passi là dentro il cittadino lo può seguire tranquillamente, appena 5 stelle si è insediato a capo dell'amministrazione comunale di Bagheria hanno deciso di sospendere la diretta televisiva dei consigli comunali e allora ti voglio preannunciare che i consiglieri di opposizione pagando di tasca propria hanno deciso di fare la diretta e quindi sponsorizzandola con i propri gettoni di presenza e allora voglio dirti caro Filippo non è che per caso quando governi tu poi alla fine la democrazia vale soltanto per te e l'opposizione deve stare relegata in silenzio e magari essere anche sottaciuta e messa col coperchio nella pentola sopra, io credo che, e mi guarda lo dico con molta schiettezza, adesso non voglio essere sembrare quello che ce l'ho compatrizio, io non ce l'ho contro il sistema quando c'è qualcuno che pensa che lui è unto dal signore e alla fine lui è il buono e il giusto e gli altri, tutti quelli che hanno fatto politica sono dei mascalzoni. sono stati presenti eccellenti, io te lo dico con molta schiettezza, io ho fatto il sindaco per dieci anni, ho fatto il consigliere provinciale, ho fatto il consigliere provinciale, ho fatto il diputato e io ritengo di essere ancora una persona perbene, una persona onesta, ho ricevuto soltanto un avviso di garanzia per un inquinamento ambientale e poi archiviato, poi per carità tutto è possibile nella vita, però vi permetto di dire la politica è una cosa seria e non c'è nessuno che distribuisce patenti di legittimazione e di legalità. Allora, su Bagheria abbiamo detto tutto. Forse anche troppo, però ci sarà anche dell'altro da ascoltare, molto interessante. Ripetiamo, siamo disponibili eventualmente ad un confronto, invito che noi abbiamo già rivolto. Il sindaco ha un confronto vero, ha fatto davanti alle telecamere, nessuna difficoltà. Ma se vuole venire da solo, venga da solo, perché eventualmente possiamo venire da portare a piccari, ci mancherebbe altro. Senti, siccome come ti dicevo io ho letto qualche cosa alla tua pagina Facebook, perché volevo fare un altro tipo di trasmissione, però questo argomento di Bagheria indubbiamente ha preso più tempo rispetto a quello che avevamo. Ha preso il sopravvento sulle altre. Senti, per quanto riguarda il punto nascita di Petraria, tu mi dici che ci sono delle novità, perché pare che il Ministro abbia un pochettino modificato la posizione. No, io devo dire con molta correttezza e con molta schiettezza. Perché tu avrai rivolto un invito al Ministro. Io ho lavorato insieme con altri soggetti autorevoli importanti del mio partito, a stretto contatto con il Ministro Lorenzin, due settimane fa l'assessore Gucciardi insieme con tre sindaci di rappresentanza di quel territorio sono stati ricevuti. Il Ministro Lorenzin ha dato un'apertura di credito e disponibilità a rivedere la sua posizione alla chiusura, che non era la sua posizione, attenzione, non voglio soltanto qui essere adesso di parte e difendere il Ministro Beatrice Lorenzin che sta facendo un ottimo lavoro. Beatrice Lorenzin, il Ministro dice, io chiudo il punto nascita come tanti altri punti nascita perché c'è un comitato tecnico, scientifico e nazionale, costituito da tanti ginecologi importanti, pediatri e tutto il resto, perché non ci sono le condizioni di garanzia del cittadino e delle puerpe e delle mamme che devono partire in quell'ospedale. Quindi non è una scelta politica e soprattutto una scelta più tecnica. Tant'è che dopo l'incontro Beatrice Lorenzin ha dato la sua disponibilità a rivedere la sua posizione, è chiaro che è disponibile a rivedere la sua posizione a condizione che la Regione adegui sotto l'aspetto della garanzia dell'ammalato, della puerpe della mamma e dei bambini e dei nascituri, voglio dire, garanzia nella presenza nelle 24 ore di ginecologi, di ostetriche, di pediatri, voglio dire che ci vuole chiaramente la garanzia. Però la Regione aveva fatto un'altra scelta. Mi risulta che sì, mi risulta che ieri pomeriggio si è riunito. Quindi è una notizia recentissima. Di stamattina, ieri si è riunuto un comitato tecnico scientifico, il Comitato Tecnico della Salute regionale e che sembrerebbe che abbia dato una serie di indicazioni. Io però adesso lo dico con molta schiettezza. Non vorrei che gira, 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 poi alla fine si sottragga la Regione della sua responsabilità e alla fine la responsabilità sia del manager Candela, che ha tutta la mia solidarietà e vicinanza perché sta facendo tra l'altro il dottore Candela presso l'ASP6 di Palermo un lavoro straordinario di legalità con denunce forti, autorevoli, scoperchiando anche vicende particolarmente importanti e particolarmente delegate, caro Filippo. Quindi questo va detto con grande schiettezza. Io sentirò più tardi il dottore Candela, il manager Candela, anche per capire quali sono i percorsi immediati da attuare. Domenica mattina sarò a Petralia perché c'è un evento organizzato dagli amministratori, c'è una partita di calcio tra amministratori e altri soggetti proprio per tenere alta l'attenzione sul punto di nascita di Petralia, ma io sono convinto che nelle prossime settimane finalmente il punto di nascita di Petralia sarà riaperto, ma io aggiungo quell'ospedale va rafforzato non soltanto tra l'aspetto pediatrico e sotto l'aspetto della pediatria, perché caro Filippo e tu me lo insegni. Tu prova a pensare a un infartuato a Petralia, quando devi arrivare dopo un'ora e venti minuti nel più vicino ospedale. Eppure devo dirti che il reparto di cardiologia è soltanto aperto dalle 8 alle 20 di sera. Gli infarti purtroppo non hanno né orari e non hanno neanche giornate festive o giornate feriale. E quindi lì bisogna fare un raggiamento più ampio, dove è importante rafforzare sia l'aspetto della cardiologia ma anche quello dell'ortopedia, perché ci troviamo a piano battaglia nel periodo invernale ogni domenica. Su piano battaglia ci sono almeno 6-7 casi importanti di fratture complesse dove quell'ospedale non è nelle condizioni di dare assistenza alle persone che subiscono questi incidenti. Tu prima facevi parte della commissione di attività produttive, adesso sei nella commissione del territorio e sei dall'altro vicepresidente. E infrastrutture. Perché questa scelta, questo cambio? Guarda Filippo, io devo dirti che ho fatto un discreto lavoro, a me quella commissione piaceva tantissimo, mi entusiasmava, però ritengo che ci sono una serie di appuntamenti che ci vedranno impegnati nel prossimo anno e mezzo per quanto riguarda l'aspetto infrastrutturale per la Sicilia, per quanto l'aspetto ambientale per la Sicilia, dalla legge sull'acqua ai problemi dei rifiuti che è un tema particolarmente... Il rifiuto è stato risolto. Assolutamente no. Sono gli inceneritori, si è risolto tutto. Assolutamente no, perché devo dirti con molta onestà che vedete questo è un governo che secondo me ogni tanto è un po' strabbico, nel senso che a livello romano fanno una serie di affermazioni dello stesso partito e poi a livello regionale fanno un'altra e sempre del stesso partito a livello regionale ci sono due scuole di pensiero. Io credo che sulla vicenda dei rifiuti non si possano fare scuole di pensiero, la vicenda dei rifiuti è invece una vicenda particolarmente delicata e complessa che pende sulla testa dei siciliani, perché quando il servizio non funziona ci sono due elementi gravissimi, uno che il costo aumenta e purtroppo il servizio viene pagato al 100% oggi dei cittadini e quindi lo pagano, lo viene pagato sulla pelle dei cittadini. Due, c'è un problema dove oggi non si può fare raccolta differenziata perché mancano impianti, dove non ci sono investimenti tant'è che io ho proposto all'assessore, siccome è previsto in quest'ultima finanziaria che andrà a approvare nelle prossime settimane una sanzione ai comuni che non raggiungono la quota di raccolta differenziata, ho chiesto con un mio emendamento e con una dichiarazione che ho fatto in commissione all'assessore che le somme che vengono ricavate dalle sanzioni che vengono pagate dai sindaci e quindi dai comuni e quindi dai cittadini, metterle a cantonarle per utilizzarle esclusivamente per la realizzazione di piattaforme per accelerare tutto quello che è il sistema della raccolta differenziata in tutta la Sicilia, è questo che devo sentire più importante. Qual è la posizione del gruppo Nuovo Centro Destra rispetto a questa nuova finanziaria che si deve approvare? Ma guarda, è una finanziaria, ci giriamo attorno, di lacrime e sangue, è una finanziaria dove non ci sono importanti risorse, ti do un dato su tutto, l'anno scorso in un capitolo che riguarda l'anello debile della società, i disabili psittici, stiamo parlando Filippo, quelli che una volta erano negli ex manicomi, capiamoci così abbiamo l'idea più chiara, i disabili psittici nella scorsa finanziaria c'erano 8 milioni e mezzo di euro poi integrati dal 100 milioni, quest'anno in quel capitolo c'è 0 euro, dico 0 euro e purtroppo ci sono centinaia di capitoli a 0 euro e chiaramente non mi pare che sia una finanziaria volta a sviluppo. Io spero e mi auguro che in un confronto dialettico in aula e anche con gli emendamenti, in queste ore in commissione di bilancio, ma da oggi pomeriggio e nelle prossime settimane in aula si possa raddrizzare il tiro e si possa guardare in modo particolare al sostegno della piccola e media impresa e degli artigiani. Io proprio ieri te lo racconto velocemente, sono stato a Roma e ho voluto incontrare a livello personale, ci sono dato a livello personale, mio personale, ho incontrato il dottore, il presidente Baccini, l'ex ministro della funzione pubblica che oggi è il presidente nazionale del microcredito perché credo che il microcredito in Sicilia sia un elemento importante per dare sostegno ai piccoli e medi artigiani e commercianti. Senti, l'ultima battuta alla politica, ecco, cosa intende fare il nuovo centrodestra sia in Sicilia che a livello nazionale? Ma guarda, il nuovo centrodestra ha intrapreso un percorso che è l'unico che ci può permettere di restare, diventare protagonisti della politica e determinanti, protagonisti e determinanti, quello dell'allargamento della Costituzione di aria popolare insieme con l'Udc, insieme con il gruppo autonomo di Tosi nel Veneto e in altre realtà, con un gruppo autonomo in alcune realtà d'Italia, perché da alcuni, diciamo, sondaggi di prospettiva, l'area di centro moderata, io guardo un sondaggio, te lo voglio dire perché pubblico, anche se non è uscito sul giornale, ma ne sono a conoscenza, c'è un sondaggio, Filippo, che ti deve fare a riflettere, in Sicilia, area popolare dove c'è Udc e 9 centrodestra, oggi la danno attorno al 10%, mentre il PD in questo punto in Sicilia, quel sondaggio viene dato al 12-13%, c'è 15 punti in meno del dato nazionale. E secondo te perché questo accade? Accade perché chiaramente, purtroppo, si porta appresso, voglio dire, il fardello di un governo a guida, Crocetta, che chiaramente ha, diciamo, registrato grandi criticità e quindi noi riteniamo che se riusciamo a consolidare fortemente questo gruppo di area scientista e popolare potremmo essere determinanti nella scelta del prossimo Presidente della Regione e vi permetto di dire, anche nelle scelte nazionali, guardando ad alcuni temi etici importanti dove noi stiamo giocando la nostra partita a cominciare dall'Unione Civile proprio in queste ore, a livello nazionale. Allora, penso che abbiamo detto parecchio, quindi io ti ringrazio per questa partecipazione, buona fortuna e buonasera agli ascoltatori.